Siamo con Roberto Magaglio di Engel & Fölkers al seminario dedicato al mondo delle locazioni per parlare appunto di questo mercato che in Italia sembra ancora arretrato rispetto al resto d'Europa. Com'è la vostra visione soprattutto legata al mondo di Milano? Buongiorno a tutti, sono Roberto Magaglio, Engel & Fölkers Milano. Condivido molte delle idee e dei pensieri che ho sentito oggi a questo convegno, noi li vediamo in pratica tutti i giorni. Il mercato della locazione è un mercato a Milano dominato più che altro da esigenze temporanee di manager e di clientela straniera e per quanto dico straniera intendo non milanese, cioè non solo gli stranieri non italiani, che vengono a Milano sempre di più, anche post Brexit possiamo dire, sempre di più per motivi di lavoro e vengono o da soli o accompagnati con le loro famiglie per cui cercano tipologie immobiliari conseguenti. È un mercato che subito dopo Expo il timore era il rischio di una piccola battuta d'arresto, battuta d'arresto che in realtà non c'è stata, in quanto comunque Milano, lo vediamo sui dati di affluenza anche turistica, rimane comunque una città sugli scudi, una città da visitare, una città attrattiva evidentemente anche per le imprese che portano il loro manager qua a lavorare e questo è un aspetto. Il secondo aspetto, anche se noi eseguiamo un po' meno, riguarda le università, cioè tutti quelli che si muovono su Milano per esigenze di studio universitario o di master e anche questo è un grande bacino di clientela. Tipicamente i clienti si muovono uno, due, massimo tre mesi prima del momento in cui hanno bisogno dell'immobile e cercano immobili, ecco questa è una cosa importante da dire, cercano immobili che siano di grado A, cioè non l'immobile della nonna o della zia che è avanzato, ma cercano un immobile che ben si adatta, moderno e che ben si adatta alle loro esigenze dal punto di vista funzionale. Legato a questo aspetto della qualità dell'immobile, durante il seminario abbiamo sentito che molto spesso, anzi la maggior parte del patrimonio immobiliare invece è vetusto, quindi l'offerta per immobili e locazioni di qualità c'è? Può essere maggiore? Come creare più offerte, insomma con queste caratteristiche? Concordo sul fatto che la gran parte del patrimonio immobiliare, specialmente a Milano, perlomeno quello che vediamo noi è vetusto, è un prodotto che è difficilmente ricollocabile questo, se non con grande sacrificio sul canone di locazione, ma al di là del sacrificio del canone un certo tipo di clientela non gradisce quel tipo di prodotto, bisognerebbe avere più prodotto e per cui svilupparlo per questo tipo di clientela che cerca prodotto bello, come quello di City Life, come questa tipologia di prodotto che ahimè è scarsa a Milano, c'è più domanda che offerta per questo tipo di prodotto, confermo. Quindi un'opportunità anche per gli investitori come abbiamo sentito, come Engel & Folkers come vi state muovendo in questo settore? Avete chiuso, avete delle contrattazioni in corso? Noi siamo attivi nel campo della mediazione per le locazioni, siamo molto attivi e quasi metà del nostro fatturato viene da quel mondo per cui sicuramente, tipicamente il nostro cliente è quello che cerca quel prodotto scarso che non c'è, come dire. Per cui vediamo con grandissimo favore iniziative di sviluppo che vadano in questo senso. Credo che le opportunità oggi, come ho sentito dire anche qua, siano migliori di qualche tempo fa, nel senso che anche il sentiment legislativo, insomma sentivo anche oggi, è il motivo per cui sono anche venuto, sta cambiando a favore di una minor tutela della parte conduttrice, adesso sembra brutto dirlo così, però insomma diciamo che il conduttore oggi probabilmente ha meno bisogno di tutelare di una volta anche perché esiste sempre meno una tipologia di conduttore che è la famiglia che vive in affitto, cioè questa è una tipologia che praticamente non c'è più e lo vediamo anche nei numeri, cioè nei numeri degli italiani sono in Europa i più grandi proprietari di case. Però anche questo, come dire, un po' cozza con le idee sempre che ho sentito oggi, la sharing economy, l'idea che andiamo verso l'utilizzo e non la proprietà, e questo impatta sulla flessibilità del mercato del lavoro, insomma tutti i concetti condivisi, e per cui mi auguro diciamo che da un lato anche legislativamente queste agevolazioni sia fiscali che magari anche proprio di codice arrivino prima o poi, e queste sicuramente potranno aiutare allo sviluppo di un nuovo mercato dell'investimento residenziale che in Italia purtroppo ormai da 30 anni non c'è più.